Vicenda piscina comunale del quartiere Sant'Elia resta chiusa, questo si sa. Le telecamere di Antena Sud lo hanno denunciato nei giorni scorsi. Il 16 maggio 2022 era la data indicata per l'ultima azione dei lavori di ristrutturazione dell'impianto, ma una volta sul posto, il 20 maggio scorso, la sorpresa, i lavori di ristrutturazione, iniziati il 16 febbraio, non erano terminati il 16 maggio come previsto e come indicato dalla cartellonistica apposta sul cancello d'ingresso. Anzi, forse qualche buontempone, definiamolo così, aveva addirittura cancellato la data del 16 maggio. Le nostre telecamere hanno ripreso quel cartello il 20 maggio, esattamente quattro giorni dopo il presunto termine dei lavori. Dopo il nostro servizio, qualcuno forse si è ravveduto, ha pensato bene di munirsi di gomma e matita e questa volta non per continuare a cancellare, ma come vedete dalla foto, per riscrivere la data dell'ultima azione dei lavori. 16 maggio 2022, appunto. Questa foto è stata scattata lunedì 23 maggio. Un giallo, definiamolo così, che non chiarisce certo una vicenda, che purtroppo potrebbe prendere strade complicate da seguire a colpi di carte bollate e non solo. Questa foto è stata scattata lunedì 24 maggio.